Buonasera a tutti e grazie per essere con noi in questo webinar con Angelo Simeone. Allora, mentre aspettiamo che arrivino anche gli altri partecipanti, vi chiedo di darmi un feedback per sapere se sentite tutto. Innanzitutto io sono Stella Bosso di Trading Library e grazie a tutti voi. Quindi, perfetto, quindi si sente. Allora, mentre aspettiamo vi leggo il disclaimer che è necessario. Allora, la presentazione che segue ha il solo scopo di contribuire ad aumentare il livello di conoscenza, prodotti, servizi, strumenti e strategie di gestione e di investimento in borsa e sui mercati finanziari. I contenuti della presentazione non costituiscono in nessun modo servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio, né si intende pubblicizzare acquisto o vendita di alcuno strumento economico finanziario. Questa presentazione ha scopi esclusivamente didattici collegati alla piena comprensione della tecnica a cui è dedicata. Qualsiasi decisione di investimento presa in relazione all'utilizzo di informazioni ed analisi che saranno qui rappresentate è di esclusiva responsabilità dell'investitore. Pertanto, nessuna responsabilità in relazione di investimenti effettuati dai singoli può essere in qualsiasi modo addebitata all'autore della presentazione o all'editore della stessa. Ecco, questo era il disclaimer che andava letto perché le normative lo prevedono. Direi di dare il benvenuto ad Angelo Simeone che ci presenta questo Mastering Financial Markets. Grazie Angelo e il webinar è tuo. Ciao Stella, grazie per avermi presentato. Grazie soprattutto a tutti coloro che stanno condividendo il loro tempo con noi in questo momento. Oggi parliamo di una cosa particolare e andiamo a vedere come fare per costruire e se è possibile costruire un portafoglio che ci consenta di dormire sonni tranquilli. Intanto vi ricordo i miei due canali di comunicazione che sono su Instagram, la Borsa di Scipio, e su YouTube, la Borsa di Scipio. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi perché così teniamo aperto un canale di comunicazione con voi. I miei libri, il risparmiatore intelligente che abbiamo appena pubblicato insieme con Trading Library e lo Spread Trading per tutti, che ad oggi è ancora l'unico libro che parla di Spread Trading con le azioni scritto in italiano. Detto questo, entriamo subito nella nostra presentazione. Quello che vedete è un documento ufficiale di una banca. Un gentile lettore di uno dei miei libri mi ha contattato e mi ha chiesto senti Angelo, ma posso sapere che cosa ne pensi del mio modo di investire? Gli ho chiesto, la prima cosa da sapere è come sei investito. E questo gentilissimo lettore mi ha fatto avere questo documento della sua banca. Ora, come vedete, voglio dire, abbiamo ottenuto un rendimento del 5,53%, che è un ottimo rendimento. Peccato che il rendimento del 5,53% era su dieci anni. Ora, voi capite, questo documento, cioè i soldi e i risparmi di questo gentilissimo lettore, sono stati gestiti per ben dieci anni da uno specialista del settore economico e finanziario. E dopo dieci anni se ne viene con un rendimento del 5,53%, cioè 0,5% all'anno. Vi faccio notare come, più o meno alla fine del periodo, e guardate, l'utile perdita, questo grafico qui sotto che sto facendovi vedere adesso con la freccia, era addirittura in perdita, cioè dopo quasi dieci anni, se il nostro lettore avesse voluto disinvestire, avrebbe perso del denaro. Voi capite bene che tutto questo non è possibile, soprattutto perché abbiamo delegato a gestire i nostri risparmi uno specialista, e uno specialista in effetti non può, secondo quello che dico io, uscirsene così. Vi faccio vedere un'altra cosa. Se il lettore avesse investito alla data del 2 gennaio 2013, quindi dieci anni fa, in un semplice BTP Italia, quindi una cosa semplicissima, all'epoca il BTP Italia faceva il 4,92%. Abbiamo la possibilità, grazie a strumenti che si trovano su internet, questo è un calcolatore della Banca d'Italia, di verificare che cosa sarebbe successo se avesse investito i suoi 21.260 euro, eccolo qui, vedete, inizio periodo 21.260 euro, con un tasso del 4,92%, lo vedete qui, a dieci anni, con un interesse annuale. Guardate, avrebbe guadagnato 10.460 euro, con un mero BTP, cioè va in banca e chiede, mi compro un BTP, certo, non ci sono problemi, avrebbe portato a casa quasi 11.000 euro, non solo, ma se invece che un interesse semplice avesse deciso di reinvestire i dividendi, quindi il rendimento del BTP, avrebbe addirittura ottenuto 34.000 euro, quasi 3.000 euro in più rispetto al mero interesse semplice. Capite bene che investire in autonomia probabilmente avrebbe reso a questo lettore una buona, un ottimo introito, addirittura decennale, e non vi voglio far vedere quello che sarebbe potuto capitare se avesse investito in un mero ETF sulla borsa americana, 200% in dieci anni, cioè i suoi 20.000 euro sarebbero diventati 60.000 euro. La differenza è sostanziale, soprattutto perché noi abbiamo dato il nostro denaro nelle mani di uno specialista, e lo specialista, forse lo specialista avrebbe dovuto fare delle scelte diverse, a tutto vantaggio del risparmiatore, cosa che probabilmente, alla luce di quello che vediamo, non è che sia stata esattamente così. Quindi che cosa sarebbe dovuto capitare? Probabilmente il nostro lettore, io qui dico, vedete in questa slide, mi limito a dire se non ti occupi di economia è l'economia che si occuperà di te. Che cosa avrebbe dovuto fare il nostro lettore? Prima di fare un investimento, prima di decidere a chi delegare il proprio denaro, in questo voglio dirvi una cosa, mi viene in mente proprio adesso, ve la voglio dire mentre sto parlando, molti di voi nel loro lavoro, nella loro attività quotidiana, sono bravissimi, eccellentissimi, e non delegano, proprio perché si sentono, e sono molto bravi, non delegano neppure la decisione del colore delle pareti del proprio ufficio o di casa propria, decidono anche quello. Poi succede che queste stesse persone, incredibilmente, delegano i propri risparmi a personaggi che magari conoscono solo per sentito dire, non delegano attività molto leggere, tra virgolette, ai propri collaboratori, che conoscono perfettamente, però prendono i propri risparmi e li delegano al nonno del barbiere che ha detto che ci sarà una grandissima, un grandissimo recupero di un'azienda o di un settore. Capite bene che questo non va bene. E non va bene perché? Perché in effetti, prima di decidere che tipo di investimento fare, qualsiasi esso sia, bisogna crearsi un piano di investimento. Questo porta via del tempo, io mi rendo conto, ma è indispensabile, bisogna creare un piano di investimento diversificando le scelte. È chiaro che se io investo tutto il mio denaro in un solo prodotto, io sono legato all'andamento di questo prodotto e magari questo prodotto non fa o non ottiene il profitto che io intendevo o pensavo che ottenesse. Quindi è necessario diversificare i prodotti per poter ottenere rendimenti costanti nel tempo. Tutto questo, voi capite bene che bisogna farlo sempre prima, prima di investire. bisogna stare a tavolino e decidere come fare per investire. Che cosa investire, come organizzarsi per ottenere il rendimento giusto. In altre parole, come vedete, ognuno di noi è responsabile del suo risparmio come se fosse un'azienda, esattamente come è responsabile della sua azienda, il panettiere che abbiamo sotto casa o addirittura l'amministratore delegato di una grande azienda. Vedete, il panettiere che abbiamo sotto casa, il meccanico, il carrozziere dove portiamo la macchina, tutti i mesi, se non addirittura tutti i giorni, devono decidere che tipo di rischio accettare. Si devono indebitare per rimodernare le macchine, per comprare di nuovi computer, accettando quindi il rischio di pagare in questo momento grossi finanziamenti, grossi interessi per il finanziamento, oppure rimandare, decidendo così di mantenere i macchinari che hanno, però spendono di più in energia, spendono di più in manutenzione. Ebbene, come il panettiere, il, vi ripeto, il meccanico, il carrozziere, ma anche l'amministratore delegato di Stella, te stessa, che sei amministratore delegato della tua azienda, devi fare tutti i giorni questo tipo di scelte, perché la tua azienda possa crescere nel tempo e alla stessa maniera anche noi siamo responsabili della nostra azienda e la nostra azienda siamo noi stessi. Io non ritengo giusto che la mia azienda, sulla quale io investo tutti i giorni, perché vivo tutti i giorni una vita di sacrificio, nella quale cerco di ottenere sempre il meglio, poi al momento del redderazione, ma al momento in cui devo decidere come investire i miei risparmi, li delego a qualcun altro. Non va bene, devo pensare come penserebbe il responsabile di una grande azienda, come investire il mio denaro, che tipo di rischio accettare. Io vi faccio vedere cosa succede in una grande azienda, questa è una una pubblicità che ho preso venti minuti fa, riguardavo il webinar e mi è capitata questa pubblicità. Questa azienda che cosa ha fatto? Praticamente si assume il rischio della vendita di un prodotto e quindi della perdita di questo prodotto e allo stesso tempo si assume il rischio del fallimento del cliente a cui ha venduto il prodotto. Quindi questo cliente potrebbe non pagare più, ma se paga, paga, guardate, in 60 mesi, quindi in 5 anni, addirittura un TAE, che quindi un tasso effettivo del 10,64%. Quindi questa azienda per ben 5 anni si è assicurata una entrata costante e addirittura una rata finale elevatissima. Come fa questa azienda nel decidere che tipo di rischio assumere e quindi pianificare le entrate? È evidente che dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo, cioè, iniziare ad acquisire una mentalità diversa. Voi vedete, fino ad ora io non vi ho assolutamente detto compra questo prodotto, compra quest'altro prodotto, oppure entra nel mercato quando si intersecano le medie mobili o quando il grafico fa certe operazioni, certi movimenti. No. Questo è un momento successivo, il primo momento, quello che veramente fa la differenza nella costruzione di un portafoglio e nel rendimento di questo portafoglio negli anni è proprio quello iniziale. Che rischio accetto e come decido di investire il mio denaro in relazione al rischio che ho deciso di accettare. Esattamente come fa il gestore di un'azienda. Quindi, ritornando a noi, che cosa devo fare? Devo, prima di aderire all'investimento, prima di stabilire che cosa, quando e come comprare, prima di valutare qualsiasi altra forma di attività rischiosa, finanziaria e a rischio, impariamo a diventare imprenditori di noi stessi. È la prima regola ed io ritengo che sia la regola fondamentale. Capite bene che se decido di prendere i miei risparmi e investirli tutti soltanto in azioni, ad esempio, io decido di assumere un rischio molto elevato che potrebbe essere e la mia operazione potrebbe non andare a buon fine. Capite bene che come titolare della mia azienda Angelo Simeone sarebbe un rischio elevatissimo investire tutto in un solo settore azionario, obbligazionario, mettetela come vi pare, ma è grosso questo rischio, quindi prima di decidere che tipo di azione ad esempio comprare devo decidere ma quanta parte del mio patrimonio devo investire in tutto il settore delle azioni. Capite che il ragionamento a questo punto si sta invertendo. Non decido quale azienda comprare. la Fiat non so Fineco o Unicredit o qualsiasi altra azienda italiana oppure prima decido una cosa diversa decido quale settore è giusto che io in quale settore è giusto che io investa in quale settore investire quindi rischiare il mio patrimonio è quindi necessario individuare un piano un piano di investimento che consente in primo luogo di investire i risparmi allocandoli in classi di investimento diverse e guardandone vantaggi e svantaggi è ovvio che se io decido di acquistare delle obbligazioni ho probabilmente il vantaggio di avere nel corso del tempo un'entrata sicura ma lo svantaggio di non approcciare a mercati che probabilmente nel corso di questi degli anni della mia obbligazione possono crescere so in partenza che l'obbligazione mi dà soltanto quel tipo di rendimento se avesse investito invece in azioni e il mercato avessero dovuto salire io avrei acquistato maggiore valore dei miei investimenti quindi come vedete devo costruire un portafoglio ottimale in relazione a una serie di parametri e i parametri sono sicuramente il patrimonio altro è investire centomila euro avendo già la casa di proprietà altro è investire centomila euro ma non avendo la casa di proprietà e avendo come obiettivo quello di acquistare la casa capite bene che i due patrimoni sono uguali centomila euro ma gli obiettivi di investimento sono diversi e diversi devono essere i rischi è evidente che chi deve ancora chi ha intenzione di comprare casa e ha un patrimonio da allocare affinché cresca perché poi possa comprare casa può assumere o deve assumere rischi diversi rispetto al secondo risparmiatore che invece la casa ce l'ha già e ha già un suo patrimonio anche esso grande o piccolo questo non importa l'importante è sapere ripeto prima di decidere il tipo di investimento qual è il mio patrimonio qual è il mio obiettivo e soprattutto qual è il mio rischio capite che bisogna a questo punto decidere quanto investire quando investirlo perché magari il primo di gennaio non è il momento giusto potrebbe essere il trenta di marzo per motivi che conosce solo il risparmiatore è solo l'investitore che sa qual è il momento giusto magari di disinvestire un investimento per entrare in un altro e soprattutto dove investire dove investire intendo dire in quale località fisica in Italia in Germania negli Stati Uniti in Cina e adesso la Cina sta andando su tutti i giornali bitcoin o petrolio o altri altri asset sui quali rischiare il proprio patrimonio come vedete sono tutte scelte e decisioni che chiaramente portano via tanto tempo portano via impegno ma è ovvio che se uno vuole vedere crescere il proprio patrimonio deve impegnarsi il l'albero e come si dice il il pinocchio esisteva solo nelle favole mettere i propri soldi nel terreno nel terreno e vedere crescere poi l'albero degli zecchini esiste solo nelle favole in realtà se vogliamo ottenere dei rendimenti costanti e ottimi buoni nel tempo ci dobbiamo ci dobbiamo necessariamente ci dobbiamo necessariamente sacrificare studiare valutare le cose altrimenti il rischio è questo il rischio vi ripeto è quello di vedere il proprio investimento in dieci anni crescere del 5% e questa è una scelta che potete fare solo voi altrimenti altrimenti chiaramente potete dedicare un'ora due ore dieci ore decidete prima di entrare nel mercato che cosa volete fatto questo ed è la scelta più importante tutto il resto viene in automatico a questo punto noi abbiamo individuiamo delle degli asset delle asset degli asset class sui quali investire gli asset class sui quali investire le asset class sulle quali investire scusatemi sono praticamente sempre le stesse sono le materie prime io ho scritto il petrolio l'oro il rame la soia ma ancora il platino oggi c'è i bitcoin quindi sono materie prime quindi veri e propri strumenti cose che possiamo toccare le obbligazioni abbiamo visto un tipo di obbligazione all'inizio della nostra presentazione il BTP fino alla settimana scorsa c'è stato il BTP Italia che rende addirittura se non sbato errato il 4,5% all'anno con dividendi che vengono dati con questo BTP addirittura ogni tre mesi ancora abbiamo le azioni e probabilmente sulle azioni siete tutti abbastanza preparati le azioni non sono altro che pezzettini di azienda che vengono venduti e riflettono il valore dell'azienda e infine le valute tutti sentite al telegiornale almeno una volta al giorno il rapporto euro-dollaro questo rapporto euro-dollaro altro non è che il valore dell'euro rispetto al dollaro consente questa asset class di fare un investimento volendo si rischia di si comprano o si vendono euro se si pensa che gli euro quindi che la lo strumento euro si possa apprezzare o deprezzare rispetto al dollaro tenuto conto che queste sono le materie le asset class sulle quali investire a tavolino bisogna decidere come le investo ovvero sia quanta parte del mio patrimonio deciderò di investire in ciascuna di queste di questi asset tanto poco niente queste sono sempre scelte che vanno in capo al risparmiatore che chiaramente ha la possibilità in questa maniera di condividere le scelte o con un con uno specialista o magari leggendo dei libri scoprendo quindi studiando e scoprendo quale può essere il rischio più adatto a lui io vi ho fatto vi faccio vedere adesso sulle materie prime la materia prima per eccellenza che io ritengo forse lo ritenete anche voi basta fare un po' di etrologia no? guardare un attimo come va il mondo la materia prima per eccellenza non è il petrolio non è il rame non è la soia è l'oro l'oro è sempre stata una materia prima di eccellenza è sempre stata una materia prima rara non ce n'è tanto nel mondo e è sempre stato un veicolo di ricchezza guardate nel tempo l'oro come è riuscito a mantenere il suo valore rispetto ad altre valute in particolare rispetto al dollaro al pound inglese e al allo yen giapponese ora fatto cento nel 1920 fatto cento il valore di tutti e tre gli asset guardate nel corso del tempo come l'asset oro siamo nel 1962 vedete qui sopra ci sono gli anni in cui il grafico ci fa vedere che cosa succede e guardate come l'asset oro rimane praticamente sempre al suo livello vale sempre cento gli altri asset guardate quanto hanno perso nel corso di questo secolo dal 1920 fino al 2022 appena arriva il 2022 cerchiamo di bloccarlo così eccolo lì ho sbagliato scusatemi lo rifacciamo guardate qui vi faccio vedere come sulla base di questo schema che si trova tranquillamente su internet fatto cento nel 1920 quindi cento anni fa il valore di tutti e quattro gli asset ovvero sia cento in oro cento in yen cento in dollari e cento in sterlina inglese dopo cento anni lo yen praticamente non vale più niente si è deprezzato vale lo 0,049% di cento anni fa e così anche le altre due monete la sterlina vale 0,080 il dollaro lo 0,31% questo vuol dire che l'oro è una delle materie prime quindi è un asset che devo sicuramente tenere anche se sono un piccolo risparmiatore vi dico di più non è solo il piccolo risparmiatore che deve detenere oro ma guardate anche gli stati possiedono oro l'Italia fortunatamente dico io è il terzo stato al mondo per riserve auree detenute abbiamo 2452 tonnellate di oro in Italia molti di voi o qualcuno di voi spero ci siano tanti giovani che mi ascoltano quindi se ci sono tanti giovani non possono ricordare quello che è successo negli anni settanta negli anni settanta ci fu una grossissima crisi finanziaria nel mondo dovuta soprattutto a problemi di approvvigionamento del petrolio l'Italia proprio in quegli anni rischiò il fallimento rischiò il default aveva bisogno di denaro contante aveva bisogno di prestiti la Germania si prestò a prestare si prestò a prestare all'Italia ben due miliardi di dollari che dovranno essere ripagati mi sembra in vent'anni al tasso di interesse dei bond statunitensi ma attenzione non ci diedero i soldi dalla Germania semplicemente con la firma di un contratto pretesero a garanzia di questo prestito ben cinquecentosedici tonnellate di oro questo vuol dire che se l'Italia non avesse pagato il suo il prestito la Germania si sarebbe mantenuta cinquecentosedici tonnellate di oro nei suoi forzieri e la Germania già oggi è la seconda detentrice di oro dopo gli Stati Uniti quindi capite bene come l'oro deve essere un asset detenuto anche dal piccolo risparmiatore caspita lo detiene lo Stato lo detengono gli Stati in particolare l'Italia ne ha così tanto e fortunatamente ne abbiamo così tanto perché riusciamo ad avere grazie a queste riserve auree una ottima ancora nonostante tutti i problemi del del italiani noi abbiamo un ottima un ottimo rendimento un ottimo credito finanziario internazionale anche grazie alle nostre riserve di oro nei forzieri della Banca d'Italia e come si detiene oro nel portafoglio di un risparmiatore ora il comune risparmiatore non conosce o perlomeno non tutti conoscono tra i comuni risparmiatori i metodi o i modi di detenere oro in maniera indiretta ETF derivati future opzioni si può detenere oro in tante maniere indirette e sono tutte per chi conosce il settore sono tutte ugualmente valide ma per il semplice risparmiatore il consiglio è uno solo l'oro proprio perché ce n'è poco l'oro proprio perché è una rarità l'oro proprio perché fisicamente è posseduto dagli stati in lingotti ebbene deve essere detenuto in maniera fisica anche da risparmiatore se non sa come accedere alle maniere al possesso di oro in modo derivato l'oro fisico diventa vedete un asset da detenere in portafoglio assieme agli altri asset per riuscire a costruire un portafoglio che nel tempo possa garantire un rendimento costante l'oro normalmente nel corso degli anni ha sempre dimostrato ad esempio di ben sopportare l'inflazione quindi se l'inflazione abbiamo avuto in Italia un'inflazione al 5% sicuramente il valore del nostro oro fisico quindi lingotto medaglia o quello che è diventa almeno pari all'inflazione quindi come vedete il mio portafoglio magari non è cresciuto tantissimo ma una parte di oro riesce almeno a soddisfare il problema dell'inflazione mi tengo a pari con l'inflazione e già questo non è poco assolutamente non è poco abbiamo capito quindi una serie di cose con questa semplice osservazione che abbiamo fatto abbiamo capito che prima di investire il nostro bravo patrimonio abbiamo qui il porcellino il nostro salvadanaio con il patrimonio ebbene prima di investire dobbiamo decidere dove in quali asset investire il nostro denaro e abbiamo individuato alcuni asset fondamentali le materie prime in particolare il loro fisico poi abbiamo ancora le obbligazioni abbiamo visto il BTP e le azioni le azioni che sono chiaramente il mi piace dire il pepe di un portafoglio perché le azioni consentono di avere il plus o il minus a seconda di come vanno i mercati ma anche questo siccome le azioni sono molto rischiose io non investo in azioni potrebbe essere una scelta sappiamo che se decidiamo che nel nostro portafoglio non entrano le azioni possiamo perdere dei treni che nel corso degli anni sono stati molto remunerativi vi ripeto guardate questo grafico è il grafico dell'andamento della borsa degli Stati Uniti in dieci anni in dieci anni la borsa degli Stati Uniti ha fatto duecento e quattro per cento non è detto che nei prossimi dieci anni faccia di nuovo il duecento per cento ma se il passato dà possibilità di interpretare il presente e il futuro probabilmente avere delle azioni e avere delle azioni statunitensi potrebbe consentirmi di avere un portafoglio che ha quel plus rispetto a prodotti come il loro e le obbligazioni che invece hanno dei rendimenti più stabili nel tempo ma sicuramente più bassi perché proprio perché più stabili quindi vedete come bisogna definire tutte queste attività e bisogna definirle prima di entrare in borsa non c'è niente da fare se entriamo in borsa e decidiamo nel momento in cui decidiamo che cosa comprare come suddividere il patrimonio nel momento in cui entriamo in borsa è già troppo tardi dobbiamo avere prima il nostro bravo piano piano di studio il nostro piano piano di investimento e dobbiamo farlo necessariamente dov'è eccolo qua necessariamente questo piano di investimento va fatto sapendo qual è il patrimonio sapendo qual è il tipo di rischio che si vuole associare a questo patrimonio e quindi decidendo le scelte di investimento tornando a quello che dicevamo prima dobbiamo imparare ad essere i gestori gli imprenditori della nostra azienda vi invito a riflettere se capitasse qualcosa a voi la vostra azienda potrebbe riprendersi o siete così fondamentali che senza di voi la vostra azienda intendo dire il vostro patrimonio la vostra famiglia rischia il fallimento ecco in base alla risposta che vi state dando dovete capire che tipo di investimento fare ed è chiaro che a questo punto rivolgere tutto il proprio investimento in strumenti altamente rischiosi potrebbe non essere la scelta giusta e proprio per venire incontro a queste richieste che ci sono state nel corso del tempo insieme con Trading Library ho individuato un percorso ho individuato un percorso che consentirà ad ognuno di voi di gestire in maniera ottimale e serena il proprio patrimonio abbiamo individuato insieme con Stella intanto se ci sono delle domande io prima di continuare sono pronto a rispondere alle vostre domande se avete qualche dubbio rispetto a quello che ho appena detto non so Stella se ci sono dei gentili nessuno per il momento per il momento sei stato chiarissimo quindi puoi continuare dovessero esserci delle domande intervengo sicuramente bene e adesso ci sei anche tu Stella nella mia trattazione perché andiamo ad individuare che cosa cercheremo di dare a coloro che decideranno di accettare le due le tre lezioni che faremo faremo dei webinar due due webinar e una giornata in presenza i due webinar sono destinati esclusivamente a voi che volete costruire un portafoglio e costruire un portafoglio sereno inserendo materie prime obbligazioni azioni valute saranno due giornate in cui prima ancora di capire che cosa dobbiamo fare nel mercato cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare della nostra vita finanziaria io direi proprio così del nostro del nostro patrimonio finanziario patrimonio finanziario che potrebbe anzi che sicuramente le cui scelte di oggi sicuramente saranno influenzeranno la nostra vita negli anni negli anni a venire e poi faremo una giornata in presenza per tutti quelli che hanno poi piacere di investire in particolare nel mondo azionario andremo a vedere nella giornata in presenza come si leggono i grafici finanziari e vi farò vedere anche una vera e propria un vero e proprio trading system applicandolo riusciremo ad avere minori rischi sfruttando tutte le variazioni statistiche a nostro favore quindi come vedete sono tre giornate strutturate in maniera diversa le prime due webinar da casa quindi webinar come quello di oggi nel quale cercheremo di insegnare come suddividere il portafoglio come costruirlo soprattutto e la giornata dedicata ai grandi investitori coloro che hanno il piacere di investire in borsa noi decideremo diremo in altre parole che cosa comprare e faremo dimostrerò che le azioni non sono l'unica forma di investimento per ottenere rendimenti ottimi l'abbiamo visto prima in dieci anni comprando un semplice BTP avremmo quasi raddoppiato il patrimonio con un BTP quindi come vedete non servono solo azioni per ottenere ottimi rendimenti come comprare cioè quali sono gli strumenti che bisogna utilizzare per comprare e vendere un asset in borsa dobbiamo affidarci a un broker a un consulente possiamo decidere in autonomia e quindi avere noi gli strumenti attraverso quello che si chiama il trading online per entrare e uscire dal mercato e infine abbiamo idea di che cosa sono le spese per effettuare un investimento e queste spese che ci sono sempre questo sia chiaro qualsiasi tipo di strumento finanziario decido di acquistare sappiate che sto decidendo di pagare oltre al prezzo dello strumento un plus che è la spesa la spesa degli intermediari e infine decideremo ultima giornata quando comprare la giornata del quando comprare quella che vedremo dove ci vedremo dove avremo la possibilità di parlarci di confrontarci sarà una giornata nella quale cercare di capire come si leggono gli indici e quali strumenti adottare per avere vantaggio statistico nel momento in cui si acquista un'azione o un indice quindi impareremo parole di cui voi forse ne avete sentito solo parlare sui giornali o nei telegiornali asset class patrimonio globale patrimonio a rischio stop loss e poi vi do una ciliegina questa questa è una tabella che ho costruito io il software e non direi una ciliegina Angelo cioè io quando ho visto questo tuo lavoro sono rimasta davvero molto colpita in effetti questo è frutto veramente questo è frutto di qualche anno di esperienza questa tabella che vedete è divisa in due parti questa parte qui su portafoglio totale aziende one single track e così via che è la parte che vi costringe a decidere quanta parte dell'investimento inserire in un capitale a rischio quindi se abbiamo diecimila centomila euro siete costretti utilizzando questa tabella a stabilire che di quei centomila euro ad esempio solo diecimila euro possono essere investiti in azioni e in automatico lo strumento ci dirà quante azioni comprare io qui ho fatto l'esempio con cinque ci dirà qual è il massimo di somma da spendere per ogni azione qual è lo stop loss che possiamo decidere e poi ci dice in automatico la parte di sotto che vedete questa parte qui in automatico ci dice qual è il ticker dell'azienda io qua l'ho coperta perché ovviamente non voglio fare pubblicità a nessuno questo è un portafoglio che ho costruito un po' di tempo fa con sole azioni italiane tra l'altro ci dice quali sono il numero delle azioni ideale per non uscire fuori dallo stop loss lo stop loss che cos'è è il massimo la massima perdita che io posso sopportare e la decido a tavolino non la decido dopo attenzione questo strumento che io vi darò se parteciperete poi al se deciderete di partecipare al corso questo strumento vi obbliga a stabilire prima di effettuare l'acquisto qual è il vostro rischio ad esempio in questo caso cos'è questa linea che vi sto facendo vedere abbiamo uno stop pari almeno 5% cioè posso perdere al massimo vedete 100 euro tenuto conto che il mio portafoglio iniziale è di 10.000 euro e ho investito 2.000 euro nel prodotto tutte queste operazioni che dette così sembrano molto complicate con questo strumento diventano automatiche vi dico di più lo strumento poi ci consente guardate in questo caso la seconda operazione che abbiamo fatto ci dice che lo stop loss addirittura è in vantaggio è in profitto perché perché lo strumento può essere man mano che il prezzo sale se la mia scelta è stata una scelta positiva io decido di modificare manualmente lo stop loss quello iniziale tant'è che poi se lo strumento se il prezzo cala il prezzo della mia azione cala io addirittura vendo e vendo vedete in positivo cioè guadagnerei 10 euro invece di perderli ed è uno strumento anche in questo caso vi ripeto automatico cioè voi decidete prima che cosa fare come comportarvi rispetto ai vostri soldi e siccome i soldi sono i vostri questo strumento vi obbliga a tavolino a freddo al sabato sera o alla domenica mattina quando le borse sono chiuse vi obbliga a dire amico ma sei consapevole che stai rischiando totally stopped stai rischiando 344 euro cioè se il mercato va male tu porti a casa non un profitto ma una perdita di 344,8 euro se ne sei consapevole allora puoi fare questo tipo di investimenti tutto quello che vi sto dicendo è più difficile a dirsi che a farsi perché lo strumento è automatico si inseriscono i dati e lo strumento in automatico ci darà le risposte che cerchiamo è un vero e proprio trading system questo qui che vi daremo nel durante il corso ed è un trading system tra virgolette automatico quindi non devo stabilire non devo stabilire qual è il prezzo di entrata il prezzo di uscita stabilisce una volta dato il prezzo di acquisto vedete price buoy lo strumento mi dice quali sono le azioni che posso comprare ideali e ma io ho anche la possibilità di stabilire di comprare azioni in maniera diversa io qui ho stabilito di comprare tutte le stesse azioni ma se vi vi faccio vedere vediamo se ci riesco questo è il portafoglio aggiornato guardate che ad esempio vi prego non guardate che cosa ho comprato ma in questo caso dove da 179 azioni io poi ne ho comprate altre ne ho comprate altre sono arrivato a comprarne 184 perché perché lo strumento vedete mi stava dando la possibilità di guadagnare e lo posso fare perché perché questo tipo di tabella è una tabella modificabile dall'operatore nei suoi nei suoi elementi essenziali e questa è la seconda giornata la terza giornata infine parleremo della come si leggono i grafici in borsa il pomeriggio vi spiegherò anzi che cosa è il builong con vantaggio statistico e per il resto mi sa che devi fare tutto il resto lo devi dire tu Stella i posti come fare per collegarsi che cosa che cosa qual è il sito dove potersi non mi muovo allora ci sono domande se c'è qualcuno che vuole sì sì se c'è qualche domanda naturalmente siamo qua però in questo momento non vedo nessuna domanda c'è stata una domanda prima mi dicevano di un partecipante che chiedeva la sede del corso in presenza allora attualmente stiamo pensando di farlo su Firenze se dovesse esserci qualcosa di diverso naturalmente ve lo faremo sapere allora parliamo subito per tagliare la testa al toro di costi ok perché quando abbiamo parlato con con Angelo Simeone di questo di questi di questo corso ma soprattutto dei due webinar che sono la parte principale di questo corso beh abbiamo pensato subito di cercare di avere un costo che sia adatto anche alle persone che ancora non hanno molta dimestichezza con gli investimenti molti di voi sapranno cosa costano i corsi di cosa costano i corsi quindi non mi dilungo ma sul sito troverete tutto poi vi manderemo anche la mail con tutti i riferimenti il costo dei due webinar fatti con Angelo Simeone che saranno all'incirca due ore di webinar a webinar quindi totale saranno mal contate quattro ore di lezione è di 300 euro sto parlando di due webinar completi con tutto il materiale con tutto il materiale didattico quindi avete molti contenuti e soprattutto il live in presenza avrà un costo invece di 200 euro ma in questo caso chi viene solamente al live non avrà la tabella di cui parlava prima Angelo Simeone che è la TIA mentre i due corsi cioè i due webinar avranno esatto avranno immediatamente la consegna del software TIA e vi assicuro che solamente quella parte cioè solamente la TIA vale molto più di 300 euro ha un valore molto più alto perché l'abbiamo valutato con Angelo Simeone e solo questa tabella per tutto il lavoro che Angelo Simeone ha fatto in questi anni per programmarla vale molto di più di 300 euro ecco questi sono i costi se poi deciderete di fare due webinar e anche la giornata in presenza allora anziché pagare 500 euro il corso totale sarà di 400 euro io che conosco molto bene i costi dei vari corsi posso dire che questo è un corso molto ben fatto veramente molto ben fatto ed ha un costo veramente mi posso permettere di dire che ne stiamo parlando di una da un anno di questo esatto per arrivare a definire questi concetti ci abbiamo messo davvero tanto tempo soprattutto perché scusami Stella se ti prendo la parola prego non diciamo quello che se andate su internet trovate e praticamente lo dicono tutti nel senso tutti quasi tutti i corsi che troverete su internet a costi molto maggiori rispetto al nostro vi dicono quando entri quando esci qual è il momento migliore per comprare quest'azione qual è il momento migliore per comprare quest'altra noi partiamo dal punto di vista diverso noi vi diciamo cambia la tua mentalità prendi una mentalità nuova impara a gestire tutto il tuo patrimonio impara a gestirlo e nel momento in cui hai imparato a gestire il patrimonio per intero il resto viene in automatico e poco importa se poi fai due o tre scelte sbagliate perché perché con questo strumento le tue due o tre scelte sbagliate sono comunque limitate a quello che tu puoi perdere e non a soldi che tu non puoi perdere e sei costretto poi a dover rimettere sul mercato perché o non hai più il coraggio di uscire o è troppo tardi o nessuno ti ha detto come fare per uscire da uno strumento che sta andando in perdita e ritengo che questa sia la grande differenza del corso che noi forniamo rispetto a quello che si potrebbe trovare partecipando ad altri tipi di corsi analoghi sono d'accordo Angelo sì assolutamente io ora ho messo in chat il link per poter vedere il corso così potete scegliere se fare solo i due webinar se farlo completo se fare solo la giornata in presenza ovviamente sul sito ci sono tutti se non sbaglio ecco questo dovrebbe essere dovrebbe essere la pagina giusto sto proiettando la pagina con il 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 corso nel nel suo nel dettaglio e se non sbaglio tu dicevi Stella che dopo aver visto come funziona la 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 tia e hai visto anche qualche trading system mi dicevi che la mia tia è molto simile ad altri trading system che pure vendi sul tuo sito giusto con altri libri altri autori ci sei Stella mi sentite mi sentite adesso io ti sento oh bene allora non faccio nuovi perché non è giusto farli ma nel catalogo di trading library ci sono diversi libri ci sono diversi autori che scrivono di trading system autori di grande nome autori che sono sul mercato da svariati anni che hanno fatto dei trading system secondo me molto profittevoli e hanno fatto anche dei dei grandi lavori ma quando io ho visto la tia di Angelo Simeone ho detto scusa io questa roba qui l'ho vista solo fare dai grandi autori che però hanno prezzi diversi costi diversi e anche lezioni diverse cioè sono molto molto anche difficili da seguire questa tia secondo me ha la bellezza della semplicità e l'efficacia di uno strumento veramente importante per chi vuole investire i propri soldi questo lo dico con molta tranquillità perché te perché te l'ho detto subito quando ho visto questo software sì me ne avevi parlato sì quindi lo ripeto davvero nei libri a catalogo a 3d library ci sono fiori autori che parlano di 3d system che che veramente la tia non ha niente di meno rispetto a questi grandi autori quindi io ho messo la chat manderemo a tutti anche a quelli che non hanno potuto partecipare questa sera la registrazione di questo webinar io lo dico nuovamente so che dà fastidio a volte sentire parlare di costi di corsi perché su internet c'è molto c'è molto materiale gratuito però la didattica è un'altra cosa mi scuserete ma io faccio questo lavoro come editore almeno da 25 anni e la differenza fra il gratuito e la didattica è enorme c'è un abisso ok e perdere i soldi con il gratuito è proprio un rischio che c'è dietro l'angolo poi ho ricevuto telefonate di tutti i tipi purtroppo di gente che ha perso investendo male i propri capitali beh io devo dire che questo corso veramente mi sento di promuoverlo con molta sincerità con molta onestà verso tutte le persone anche coloro che non hanno mai fatto un investimento ma anche coloro che ne sanno perché io stessa ho imparato molto mentre discutevo con Angelo Simeone di questo corso quindi manderemo a tutti la documentazione per poter avere sotto mano tutto quello che daremo in questo corso poi ci sono anche dodici lezioni sulle basi dell'analisi tecnica che sono in vendita anche sul nostro sito che anche quelle hanno un valore quindi anche quelle costano più di 100 euro e verranno date gratuitamente agli iscritti a questo corso quindi mi sembra che di materiale didattico ce ne sia veramente tanto Angelo tanto io vi ringrazio tutti vi auguro una buona serata e vi manderemo tutto il materiale via mail ringrazio anche io tutti soprattutto per aver condiviso un'ora del vostro tempo e non è poco ma un'ora del vostro tempo ben spesa vi lascio questa che secondo me è la slide più importante della serata cambiate modo di pensare e pensate a voi stessi come al titolare e all'amministratore delegato della vostra azienda grazie per avermi seguito buona serata a tutti e ci vediamo presto mi auguro ciao Stella e grazie a te ciao grazie a tutti buona serata